Sfumanti dell'Etna Sfumanti dell'Etna Sfumanti dell'Etna Sfumanti dell'Etna Sfumanti etnei metodo classico gli chef e i produttori di eccellenza. Una tre giorni che racconta il territorio straordinario dell'Etna, l'eleganza dei vini metodo classico il romanticismo, il rispetto del tempo e del territorio. Questa produzione di nicchia che diventa ed è soprattutto una produzione di spumanti assolutamente sostenibile attenta a quello che è l'ambiente anche perché l'Etna è la superficie vitata siciliana con il maggior percentuale di vitigni certificati in biologico e quindi anche gli spumanti hanno questo pregio e soprattutto delle bollicine che al calice riescono a essere ambasciatrici del vulcano ma non solo, anche del mare e soprattutto degli stupendi paesaggi che chi viene qua trova e riesce a innamorarsi assolutamente bene. Bilancio assolutamente positivo di questa tre giorni che ci ha visto anche la partecipazione e tavoli confronto con le istituzioni la regione, il comune, l'università che emette le basi per un confronto quotidiano su quello che poi può essere lo sviluppo del territorio etneo e della scena degli spumanti metodo classico etnei soprattutto non possiamo non ricordare l'attenzione dell'assessorato alla regione siciliana dell'agricoltura che ha visto di buon auspicio anche la promozione di questi prodotti nel nostro territorio ma anche l'attenzione di chi vuole partecipare a raccontare Catania come città del vino ecco, da Catanese sono molto fiero di questo e anche poi di provare dei prodotti di assoluta eccellenza prodotti che stanno 120 mesi sui lieviti da Nerello Mascalese sperimentazioni anche incaricante che rappresentano quella che poi è l'unicità di questo territorio che vuole essere raccontato al mondo e soprattutto vuole essere rispettato da chi lo abita ad occuparsi della gestione degli chef è stato Marco Cannizzaro insieme a Francesco gli do una mano per raggruppare tutti gli amici chef che ogni anno diciamo ci aiutano in questa bellissima esperienza quest'anno siamo 18 c'è qualcuno nuovo rispetto all'anno scorso qualcuno non è venuto perché hanno avuto un nostro amico storico dell'evento è Lorenzo Ruta che sta inaugurando un locale nuovo prossima settimana e quindi purtroppo non ci sarà come altri che appunto stanno facendo dei nuovi progetti e appunto io mi sono occupato di tutta la gestione diciamo del lato culinario quindi seguire gli chef tutte le loro richieste gestire un pochettino tutto quello che sono i piatti e tutta la logistica del food Cannizzaro ci ha spiegato la sua proposta per la serata allora noi diciamo quest'anno abbiamo proposto un raviolo che è un fondamentalmente è un piatto della tradizione nostra italiana perché è lo spaghetto aglio, olio, prezzemolo e peperoncino sotto forma di raviolo abbiamo una pasta all'uovo ripiena con patate patate una crema di patate profumata con aglio, prezzemolo e peperoncino una spuma di olio extravergine d'oliva una nocellare etnea salsa al prezzemolo e salsa al peperoncino e fra gli chef c'era anche Mario Casu il cui locale è stato selezionato dalla guida Michelin anche per il 2024 tra i migliori ristoranti d'Italia anche lui ci ha illustrato il suo piatto stasera abbiamo un piatto abbastanza invernale ma molto fresco studiato sugli spumanti e cosa abbiamo abbiamo un battuto di manzo nocciole dell'Etna arancia cavolo trunzo e una maionese alle acciughe che è molto invernale ma è molto molto fresco cioè è stato fatto e lo facciamo in osteria perché è nato proprio da un assaggio con gli spumanti è veramente ottimo con i rosè pure dobbiamo dire dobbiamo dire